E salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Finalmente oggi andremo a riassumere l'episodio 6 di Asbin Hotel. Mi dispiace per le scorse volte che mi sono troppo allungata, cercherò di essere molto più sintetica e descrivervi l'episodio in maniera molto più veloce e sintetica. Allora partiamo subito con questo episodio 6 dove veramente c'è tanto da dire perché Charlie e Vagge riescono ad andare in paradiso e cominciano a preparare le valigie. Ma a un certo punto il muro dell'Asbin Hotel come al solito viene sfondato da qualcuno e viene sfondato da Cherry Bomb. Che è l'amica di Angel Dust con cui ha passato un bel po' di tempo. Dato che nella canzone di Angel, quella uscita prima dell'episodio pilota o comunque dopo l'episodio pilota non mi ricordo. Si vedevano alcuni punti dove Cherry Bomb ha consolato Angel durante la sua vita all'inferno. Quindi comunque sono buoni amici. E Charlie decide di pagare Cherry Bomb per fare andare tutti insieme in una serata mentre lei era impegnata con il paradiso. Quindi date i soldi per convincerla. E c'è una piccola scena carina su cui volevo soffermarmi tra Serpentius e Cherry perché a Serpentius si nota moltissimo che piace Cherry Bomb. E fa di tutto per avvicinarsi a lei. Nel frattempo Charlie cerca di andare in paradiso e c'è uno dei angeli che l'accoglie alle porte del paradiso dicendo che non trovava il suo nome. Ma a un certo punto arriva Sera ed Emily che erano i due angeli serafini che la stavano aspettando. Quindi di conseguenza lei gli dà il benvenuto in paradiso e cominciano a far vedere diverse cose lì al paradiso e come funzionano tramite una canzone. Nel cantare si nota che durante il filmato c'è una ragazza che ha le stesse caratteristiche di Angel Dust. Ebbene secondo le bozze di chi ha creato Asbin Hotel, ora non mi ricordo il nome di quella ragazza, questa qui che noi vediamo dovrebbe essere la sorella di Angel Dust che è l'unica insieme, mi sembra, all'altro fratello di Angel che è riuscita ad arrivare in paradiso. Infatti si vede lei con uno stile diverso, a differenza del fratello che ha quattro braccia, lei ha quattro gambe e ricordo che è un ragno quindi ci sta. E come notate potete notare ha delle ali, quindi c'è praticamente un angioletto e ha anche la corolla. Andando avanti si vede anche in un altro punto dove si mettono in posa e questo è il nuovo stile della sorella di Angel Dust. Se riesco a trovarvi una prima bozza di come doveva essere ve la faccio vedere. Detto ciò a un certo punto c'è un dibattito tra Sera e Adamo, proprio perché Adamo scopre che Charlie Sera del mattino è arrivata in paradiso. E lei Sera si arrabbia con Adamo perché sta creando troppo casino e effettivamente si sta pendendo del fatto che manda Adamo a sterminare le anime. A un certo punto dopo tutta una scena che non ha significato, sono piccole scene simpatiche, la parte più importante è che Vagge viene minacciata da Adamo perché praticamente Vagge ha un segreto. Che lei inizialmente era un angelo, non era un'anima peccatrice, però è stata uccisa, quindi viene mostrata la sua storia. Che lei inizialmente era un angelo che era nell'esercito, quindi doveva ammazzare tutte le anime, però lascia andare un bambino perché non vuole uccidere un bambino. Si sente come si sente come si sta commettendo un reato e viene fermata da quell'angelo che sta sempre con Adamo, Luth, credo che si legga così. In ogni caso viene colpita un occhio e qui si può notare che appunto i angeli con quella specie di lancia del materiale di cui stiamo parlando anche negli altri episodi è possibile ferire un angelo e viene ferita all'occhio. Dopodiché Vagge si risveglia nell'inferno e viene accolta da Charlie. Questo diciamo che è il passato di Vagge, che è molto importante per capire la sua storia. Quindi essendo minacciata Adamo dice che deve assolutamente cercare di fermare Charlie, ma Vagge ama Charlie e approva le sue idee. Quindi di conseguenza c'è un altro punto in cui Charlie inizia la sentenza con gli altri angeli cherubini e Adamo e Charlie a un certo punto dice Adamo sì ok ma quali sono queste regole per arrivare in paradiso? E Adamo scrive diverse regole ed effettivamente a un certo punto cominciano Charlie dice che comunque Angel Dust si stava diventando una persona redente e quindi stava cercando di redimere i suoi peccati. Così in un primo momento sembra essere che Angel voleva strafarsi con Charlie e Bomb e non gli fregavano niente. Ma poi Charlie dice di continuare a vedere perché sicuramente vedranno il bene che Angel nasconde. Effettivamente Niffy si mette nei casini, infatti si vede Angel tutto preoccupato e Niffy si voleva tipo bere dei prodotti chimici e Angel cerca di fermarla e di rassicurarla quando lei inizia a piangere. E così la lascia in mano a Dusk, facendola divertire. Nel frattempo c'è una scena sempre con Serpentius e Cherry Boom perché Serpentius cerca di provarci in tutti i modi con Cherry ma lei dice, cioè diciamo che lo metto di fiuta. E a un certo punto, mentre Angel stava cercando di riprendere Niffy, vede che c'è anche Valentino e vuole andare via da quel posto. Ma in realtà Niffy va incontro a Valentino per cercare di ucciderlo e Angel prende Niffy e si vede che scivola davanti a lui ma non perché voleva farlo ma semplicemente voleva acciuffare Niffy. Ed è così che Angel si libera e si scontra contro Valentino dicendo che appunto il suo contratto è valido solo nel suo studio. E di conseguenza lui poteva dire tutto quello che voleva all'interno di fuori dello studio. E è così che gli dirò un cazzotto e c'è Angel che subisce di nuovo quest'altra violenza da parte di Valentino. E Valentino lo minaccia dicendo che domani gli farà pagare tutto quello che ha fatto. Nel frattempo, durante la sentenza, Emily nota che comunque c'è del bene in quest'anima e che ha fatto di tutto per redimersi. Infatti fa vedere alla madre che ha fatto tutto quello che aveva descritto Adamo. Ed è così che parte insomma la titicata in questa canzone che è molto bella, vi consiglio di ascoltarla. E praticamente lui comincia a dire che in realtà Angel è solo una puttanella, insomma cerca tutti i modi di fermare questa scenata. E Adamo e Charlie si arrabbia, infatti qui si rivede di nuovo la forma di Charlie demoniaca. E a un certo punto nella canzone Emily capisce che Adamo va ad uccidere le anime dell'inferno. E lei non era corrente di questa cosa. E chiede alla madre disperata di sapere che cosa sta succedendo e se lei sapeva di questo genocidio. E la mamma cerca di farsi comprendere dicendo che era per il bene del paradiso. Mentre c'è in questa scena dove si vede tutte le fiamme negli occhi e si fa capire che in realtà il vero posto è sera. Però ok, vabbè. Andando avanti, Emily è schifata da tutto e anche dalla madre che gli ha nascosto questa cruda verità. E Emily e Charlie sembrano andare d'accordo, infatti dicono che è una bugia, non sanno nemmeno loro come redimere le anime, come vengono le dente dopo aver dimostrato che loro possono andare in paradiso. E si arrabbiano entrambe, ma a fine episodio si nota Pagge che viene smascherata da Adamo e Luit dicendo a Charlie che in realtà aveva le ali ed era una come loro prima di essere uccisa da Luit. E Charlie rimane appunto sconvolta da questa cosa perché non pensava, non gliel'aveva mai detto e loro comunque stanno in una relazione e quindi rimane sconvolta. Dopodiché dichiara una sentenza chiusa e nessun'anima verrà appunto dall'inferno al paradiso. E Emily è arrabbiata tantissimo con la mamma, ma poi la mamma spiega che praticamente lei lo fa per il suo bene, non vuole che queste sue idee contrastanti possano finire come Lucifero che poi è diventato un angelo caduto. Detto ciò questo è tutto il riassunto, molto proprio stretto 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 per farvi comprendere che cosa è successo nell'episodio 6. Spero che abbiate capito tutto, che sono stata abbastanza sintetica e noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao! Ciao! Ciao!